Per la posizione di Anumanasana ci portiamo in quadrupedia, lascio scivolare il bacino indietro, il ginocchio si solleva, la gamba si allunga indietro, piego e porto il piede vicino alla mano. Il bacino scivola indietro, la pianta del piede si solleva, piccole oscillazioni per abituare la gamba distesa all'allungamento e riporto la pianta del piede anteriore a terra, dorso del piede dietro, appoggiato al tappetino e lentamente mi lascio scivolare indietro. Le mani possono rimanere appoggiate lateralmente per sostegno oppure lasciarsi salire verso l'alto e allungare verso il soffitto.